Durante gli ultimi giorni Mambolosco ha postato sui suoi social una ragazza che probabilmente è la sua fidanzata Senza però specificare né il nome né nient'altro Ma, c'è un ma, in una delle storie postate in questi giorni ha anche parlato di un suo possibile fidanzamento Visto che nel box delle domande gli ha chiesto se era fidanzato e lui non ha risposto di no Ha risposto dicendo che non dice ancora nulla per ora Chiaramente noi siamo riusciti subito a beccarlo Dato che in una serata durante un suo live fondamentalmente c'è lui che bacia una ragazza E noi abbiamo proprio il video del bacio, adesso vedrete Il nome della ragazza sembrerebbe essere Giulio Torini Che purtroppo non ha più un profilo Instagram probabilmente perché l'è stato cancellato per violazioni o altro O comunque lo ha disattivato lei Infatti su Instagram da utente non ho trovato Ma non aggiungo altro, vi lascio direttamente al filmato in questione Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Ciao 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 Grazie a tutti